Ciao ragazzi, sono RedzCame, ci siamo in questo nuovo video, su questo nuovo gioco no, non provo un nuovo, ne ho postati molti youtuber famosi, io no, io non sono famosa, e si chiama youtuber's life, come se vedete continuo qua, come è che si dice in inglese, è perchè ho già fatto due storie, adesso faccio new game e incominciamo subito, qua c'è mia mamma, ok ragazzi, poi facciamo il caricamento, ovviamente è maschio, facciamo una cosiddetta così poi c'è schifo infatti, così, nella bocca normale se no poi c'è schifo, la barba che figa, non c'è la barba, qua dopo, fuck, poi le band, quelle là che stanno in America, questa, 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 scappa con le fighe, ok, e gli occhiali in America, ok, così va bene, così va bene, vai, facciamo, ma facciamo così, dai, dai, facciamo su, ma facciamo pure questo, sì, e metto, ok, ma che ne è mia, adesso no, meglio, allora mi chiamo, non così, qui, allora, ah questo qua è il nome del, nome mio, allora, proviamo, ok, e qua mettiamo Red Game, non Red Game, ah vi ricordo comunque di iscrivervi al mio altro canale, che si chiama di iscrivervi al mio altro canale, ma così dimmi se vi faccio video solo sul tema, Clash Royale, se volete riportare anche Slayer.io, ecco qua, allora, qua, ok, qua ci sono cose da fare, ok ragazzi, ci vediamo dopo questo, quindi per un secondo, ok, ecco ragazzi, allora, andiamo così, ok, così, così, guarda, non mi ricordo i tasti, allora, sì, ho capito che devo fare così, allora, vai, choose game, ok, facciamo così, gameplay, già lo so, start video, se è la che ho appunto della connessione, facciamo video, video resolution, questo, no, filtro, no, direccionato, ok, station 1 perché c'è solo una stazione per fare video, andiamo così, e facciamo il primo video, i video, queste specie di video, non erano solo 9 e 10 minuti, allora, andiamo così, schiacciamo, ok, è andato subito, madonna, buissima di roba, e mettiamo anche il suono più post action, in modo che abbiamo tutto quanto già, facciamo così, ed ecco qua, se facciamo così, andiamo così, ok, ok, ed è proprio 9 schifo, no, 7, video quality, no, ok, vai, tutto quanto, ok, post production, ok, vediamo i commenti, demo facciamo così, studio, ovviamente noi non studiare mai, all'esame che faremo, vedremo un voto tipo quelli là, ok, allora, adesso, per favore, si vai, devo aspettare però che si carica il video, se no non posso fare niente, scusate, ok, il video, tutti mi piace, grande, zio, magari nella vita reale fosse così, a me, poi gli altri sono così, uso il pc, andiamo su Google Shopping, e compriamo qualche gioco, cioè, se no, zero proprio, aspetta, fatemi vedere che giorni oggi è oggi, gennaio, lo shopping, ok, i soldi qua proprio zero, amore, che bello, tutti gli iscritti, eh, che bello, nella vita reale ce l'ho solo, prendiamo uno buono tipo questo, bravo, ok, no, no, ok, leviamo il secondo, vai, e perdiamo soldi, vediamo le nuove carte, si, 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 ma io, ok, ok, abbiamo qua, così, vediamo l'esperienza, ok, start, e la roba, open studio poi c'è gain e start vai ci va a passare le ore già 56 iscritti che bello, guarda e non guadagniamo poco niente guadagniamo solo centesimi facciamo così tutto quanto come prima facciamo così se hai gameplay 1 magari ci possa già prima impressione poi ve lo faccio allora facciamo così proprio lo schifo totale non c'è post production qua stavolta però va bene ok sempre 8 ore per fare i video editing è migliorato ok pubbliciamo il video dormiamo fai mangiare e facciamo l'altro video bella mangiatina mi sta pure 3 minuti e finisce il video che bello allora ok vai 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 e vai non mi piace che ci faccio vai hai mangiato? fai il mio gaming video subito vai 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 così tutti i video a random vai dentro le vai secondo video mi faccio mandare un video e ok ok che bello facciamo questo secondo video ok grande post production adesso serve script e acting niente proprio niente scritto niente scritto quindi c'è che bello guarda ok dovrebbe andare bene guarda metti metti ok metti ok metti così prima cos'è la madre ciao mamma che vuole a volare e poi non amo sembra la stessa cosa il video vai facciamo questi su mi sa che mia madre mi vuole si gridare poi non so si vai 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 luce che tra poco devo finire il video forza aiuto e c'è mamma e c'è mamma ecco te pareva che arriva ma io non voglio studiare va vediamo le carte chi è questa che brutta non si può guardare mi sa che devo terminare il video qui ragazzi sì vai vai allora ragazzi il video finisce qui allora il video può finire qui iscrivetevi al canale se vi piaciuto il video lasciate un mi piace iscrivetevi sul mio canale sul telefono iscrivetevi anche dal computer dal telefono basta che sia più canale però che è arrivato un gioco da non so chi però va bene iscrivetevi al canale lasciate i tanti pollicioni in su quindi solo uno sicuramente come sempre e noi ci possiamo beccare in un prossimo video ciao ragazzi ho anche la web ciao guarda da quanto tempo che non ti guardo